La musica è sempre un dono che il Signore ci fa, perché l'armonia è quella che ci porta sempre, diremmo, ad alzarci con lo spirito e a vedere le cose belle che in questo mondo ne sono tante, mentre noi che veramente vediamo sempre le cose belle, la televisione e tutto il resto. Quindi lo ringraziamo e diciamo che con noi vogliamo gustare questa serata. L'anno scorso veramente è stata, per noi non è una novità, siamo stati entusiasti e sicuramente lo saremo ancora più di più quest'anno. Ci metteremo tutte le nostre forze perché questo evento si ripeta, perché il vostro posto è bellissimo, poi la vostra musica è veramente e abbiamo deciso di, così, portare questo repertorio che generalmente si ascolta o attraverso il cinema, il cinematografo, quindi la tv, i pezzi, insomma, video, oppure attraverso i cd. Voi stasera avrete modo di ascoltare alcune colonne sonore che hanno fatto la storia sia del cinema che anche della musica, perché tanti compositori citati in questo concerto sono compositori a tutto tollo, non è che si sono solo dedicati alla musica da film. Non vi voglio tediare di più, vi auguro buon ascolto e cominceremo con il film di Steven Spielberg e la musica di John Williams. Il film è molto caro ai bimbi, è una storia così extraterrestre e di più. La musica di John Williams 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 La musica di John Williams